Sabato 29 agosto è stato inaugurato a Faicchio presso il Palazzo Giorgi, nel pieno centro storico della cittadina, il centro polifunzionale destinato agli immigrati che hanno già regolarizzato la loro presenza nel territorio e che necessitano di supporto amministrativo anche per l'inserimento lavorativo. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il prefetto di Benevento, alcuni sindaci della provincia, i vertici provinciali delle forze dell'ordine e le autorità locali. La struttura, un edificio storico di 16 vani, è stata completamente restaurata e restituita alla comunità grazie ai finanziamenti stanziati nell'ambito del programma operativo nazionale Sicurezza per lo Sviluppo, Obiettivo Convergenza 2007-2013, cofinanziato dall'Unione Europea. È prevista l'attivazione di sportelli di orientamento per l'integrazione e l'inclusione sociolavorativa, laboratori di cittadinanza attiva per facilitare l'integrazione sociale, servizi di assistenza ai minori extracomunitari che hanno difficoltà di inserimento sociale e scolastico e la sede di Palazzo Giorgi ospiterà anche laboratori musicali, corsi di lingua italiana ed un centro di ascolto ed assistenza destinato alle donne immigrate. Questo finanziamento del PON, del Ministero dell'Interno, fondi comunitari, destinava questi fondi per recupero di questi palazzi da destinare all'attività sociale. Questo è nato come centro polifunzionale per l'immigrazione regolare, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare di carattere amministrativo, legato soprattutto all'ambito sociale B4, che è il nostro ambito sociale che già dal prossimo ottobre noi inseriamo in quella che è la programmazione del piano di zona. Questo dico a tranquillizzare ma non mi sembra neanche il caso di sottolineare seppure ci fosse qualche sorta di speculazione sull'arrivo di migranti. Non siamo quelli che ci opponiamo a niente perché ci consideriamo aperti a tutti ma questo edificio che caratterizza non solo il centro storico ma soprattutto l'integrazione socioeducativa dei migranti regolari ma su un'attività che è legata all'ambito sociale di tutti i comuni dell'ambito. Ci spiega un poco meglio quali sono effettivamente i servizi offerti da questo centro di accoglienza? Più che servizi offerti la finalità era quella di recuperare l'edificio, di renderlo agibile attraverso un infopoint, un'informatizzazione delle aule informatiche. Infatti nella fase di inaugurazione vedremo anche che è già tutto bello immobiliato e che ospiterà da un punto di vista amministrativo quelle che sono le attività proprio socioeducative di integrazione al lavoro non solo dei migranti regolari ma credo aperte ad altre fasce sociali del nostro ambito. Un'ultimissima battuta il suo pensiero su questo fenomeno che negli ultimi tempi purtroppo assale un po' il nostro paese quindi un governo un po' deficitario soprattutto per voi che amministrate le piccole comunità. Come pensa un sindaco di una piccola comunità di amministrare quello che potrebbe essere un esodo così corposo da parte appunto di queste popolazioni bisognose di aiuto? Ma guarda facciamo chiarezza la responsabilità del governo non sta a noi giudicare o forse sta pure a noi giudicare questo fenomeno un po' incontrollato sotto certi aspetti per quelli che sono i numeri di sbarchi che ogni giorno registriamo ma soprattutto registriamo anche quelli che sono i casi che francamente ci lasciano un po' rattristiti. Sono morti in fondo di fratelli per noi che ci speriamo anche un po' alla fede cattolica. Su quelle che sono le quote che oggi ripartono secondo anche delle direttive immaginiamo che nella ultima ripartizione benamente ne sono spettate 500 e il prefetto ha da lavorare sulla ripartizione ma tengo anche a chiarire non è un sindaco che ospita oppure si può opporre a quello che è l'ingresso di migranti. Il prefetto ha poteri straordinari attraverso le cooperative può utilizzare strutture, qualsiasi strutture parliamo anche di una casa vacanza, di un bed the breakfast che ha fatto Regis quindi supera anche quello che è il potere di un sindaco però dico stiamo tranquilli che in fondo sapremo anche in questa circostanza saper convivere con questo fenomeno ma non un fenomeno che per adesso ci tocca.